Allora Gianmarco stai già svolgendo il servizio civile regionale a Terranova Graciolini, cosa stai facendo e cosa ti sta dando questo periodo? Sì, allora già da qualche mese, sono due o tre mesi che abbiamo cominciato a svolgere il servizio civile presso il CIAF e quindi si occupa di attività educative rivolte ai minori e questo servizio l'ho scelto innanzitutto per fare un'esperienza nuova, un'esperienza umana, non statica e macchinosa, ma qualcosa che potesse lasciare un segno anche nell'essere, nel mio essere. Quindi è un'opportunità sicuramente per chiunque, per qualsiasi giovane che vuole mettersi in gioco e soprattutto crescere e quindi deve affrontare questa esperienza con una mente aperta ovviamente perché solamente con una mente aperta si può crescere e quindi si può trarre anche un insegnamento da questa esperienza che quindi è un'esperienza fondamentale e consiglio ovviamente a qualsiasi giovane di intraprendere perché si impara veramente tante cose e si cresce in modo veramente esponenziale.